Il giudizio della giuria? Loretta Goggi? Io dico che è andato bene e soprattutto voglio sapere se ti hanno messo qualcosa per tenere gli occhi così aperti. Enrico Montesano. A me lui diverte molto perché è lo spirito della trasmissione. Non sei proprio tale e quale però due risate ce le fai fare. Claudio Amendola. Allora mi sembra molto bene, ossia Pezzali sembrava un misto tra quello dei Brutus e Martin Friedman. Devo dire che stai crescendo un po' di più e mi fai meno schifo dell'altra volta. Ah io sono molto felice che ci sia Enrico perché ci toglie da un grande impatto. Però ho trovato superfine l'alta citazione dell'uomo gatto Sarabanda.